Avere i muscoli non ti rende più uomo. Oggi mi trovo qui, io conoscito l'italiano, per parlarvi di un argomento che ci sta molto a cuore. Infatti io e l'amico Porfo parliamo di muscolosi, di uomini muscolosi. Ebbene, avere i muscoli non rende più uomo un uomo. Scusate il gioco di parole. Che significa questo? Che se un essere umano, un uomo, un maschio, un ragazzo, per dirsi voglia, ha dei muscoli, non è che lui è migliore di me, non è che lui ha qualcosa in più di me, non è che lui ha una perfezione che io non ho. È una persona semplicemente che ha un canone corporeo, un modello corporeo diverso, quindi differente rispetto al mio, quello di Leandro. Punto. Non è una persona che vale più di me perché il valore non lo fanno, e ripeto, non lo fanno i muscoli. I muscoli sono un accessorio in più. Non è che i muscoli fanno, costruiscono una persona. I muscoli fanno dal punto di vista, chiamiamolo estetico, perché magari quando giri per la strada qualcuno, qualche ragazza o anche qualche uomo, ti osserva, ti guarda, ti nota. Punto. Ma non servono per altro, per altri motivi. L'intelligenza è il canone primario su cui io penso che bisogna andare a poggiare gli occhi, o meglio, idealmente parlando, gli occhi. Siamo dotati tutti di occhi, è vero, tutti guardiamo, tutti possiamo vedere. Non guardiamo la sostanza, guardiamo l'apparenza, guardiamo l'estetica, non ci prendiamo in giro, questa è la verità dei fatti, tutti lo sappiamo. Però è bene anche rendersi conto che abbiamo un cervello, che abbiamo anche un cuore, che abbiamo anche dei sentimenti, delle passioni, delle passioni, dei valori che a volte non vengono visti. Ecco, i muscoli fanno fino a un certo punto. Questo significa che essere muscolosi, sì, possono aiutare per quanto riguarda il rapporto con una ragazza oppure con una donna. Sì, possono facilitare i rapporti, perché comunque la ragazza o la donna nota che c'è un uomo muscoloso davanti. Ma poi che succede? Avere tutti questi muscoli cosa crea? Solo un sacco di, chiamiamola, inutilità. Cioè sono utili ma fino a un certo punto. Una ragazza, una donna, una femmina oggi dovrebbe imparare a vedere e a valutare le caratteristiche etiche, quindi le caratteristiche morali di un essere umano. Spesso e volentieri invece vanno a guardare, si guarda l'estetica, si guardano i muscoli, si guardano quanti muscoli a un uomo e sappiate che la perfezione non è data ai muscoli, la perfezione è data da questo, dal cervello. Il cervello crea la persona, il cervello fa un essere umano, il cervello costruisce una persona, appunto. La bellezza la fa il cuore, la bellezza la fa il sentimento. Ecco, questo è. Caro Porfo Novanta, alla mia destra, parlami di, per te, chiaramente secondo la tua opinione, se i muscoli la fanno, fanno la persona oppure no? Cosa costruisce la persona, il carattere muscoli o cervello? O tutte e tre o tutte e due o tutta una sola? E cosa è per te la bellezza? Vai. Sicuramente sì, i muscoli non fanno la bellezza e nemmeno fanno una persona. Certamente è sbagliato fissarsi troppo con il culturismo, l'avere la voglia di volere a tutti i costi muscoli, volere a tutti i costi un fisico prestante, ecco, perché facendo così si arriva ad avere una vera e propria idolatria del corpo, si arriva ad idolatriare il proprio corpo, a mettere la... quindi il proprio corpo va di sopra di tutto e questo è sbagliato perché poi ti porta inevitabilmente ad avere anche altri problemi, a sviluppare pure altri problemi psicologici, certamente, denota un'insicurezza di fondo tutto questo. Non dico che è sbagliato fare un po' di palestra, mettere su un po' di muscoli, però come sempre il troppo stroppia si dice, quindi il volere per forza superare certi limiti, il volere andare oltre, il volere di... il far sì che tutto questo diventi un'ossessione, allora lì certamente è sbagliato perché nella vita ci sono tante altre cose molto più importanti e non è certo quello che fa la persona ad avere qualche muscolo in più o in meno, soprattutto per quanto riguarda la bellezza e se per quanto riguarda l'intelligenza, perché i muscoli non fanno né la bellezza né tantomeno l'intelligenza. Che valore dai in una scala, da 1 a 10, che vuoto dai ai muscoli? Mi spiego meglio, abbiamo una scala, da 1 a 10, muscoli, uomini muscolosi, donne muscolosi, perché quanto valgono, dovendo dare un voto ai muscoli, che importanza ha dato 1 a 10? 1 per il minimo voto, 10 è il massimo, molto alto. Io penso che quello sia una cosa abbastanza soggettiva, ma io penso che i muscoli valgano poco, per me è poco. Diamo un 5, un 6? Sì, un 5, oggi è un 5. Ti tieni bassino, ecco. Sì, 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 assolutamente. Per quanto riguarda la tematica in oggetto, voglio fare una piccola aggiunta ed è questa. Oggi come oggi, tra l'altro, molti muscolosi, non tutti, tengo a specificarlo, pensano di essere superiori agli altri, cioè mettono chi non è muscoloso in uno stato di soggezione psicologica e, ancora prima, soggezione fisica. Ecco, io dico basta, io dico non ci sto. Perché? Perché siamo tutti uguali. Il muscoloso non ha qualcosa di diverso da me, sì, non è muscoloso, punto, ma io mi accetto per come sono, non vado cercando la perfezione, io mi accetto per come sono. Ho un bel viso, non mi sembra di avere un bel viso, idem di casi, l'amico porfo non ha un cattivo viso, state vedendo, e non mi sembra anche che ci siano caratteristiche estetiche che debbano essere viste come caratteristiche di dubbio valore. Siamo tutti uguali, io sono uguale a te, tu sei uguale a me, punto. La diversità è negli occhi di chi guarda, l'ho sempre detto. Chi ha degli occhi vede l'altro o l'altra come persona diversa. Io dico basta. L'uguaglianza nasce dal fatto che abbiamo tutti due piedi, due gambe, due occhi, un naso, una bocca, due narici, punto. Di acidità dei piedi, di acidità della mano, un fegato, un pancreas, una missa, un cuore, due polmoni, due testicoli, basta. Invece no, si mettono lì a dire no, ma tu sei diversa da me, no. Cosa diversifica la persona? Forse è giusto le idee. E parliamo di tema etico. Io magari ho un'idea, tu ne hai un'altra, ci confrontiamo, ci veniamo a vicenda, punto. Questo è quanto. Grazie a tutti voi, dal vostro conoscitore italiano Leandro Smelli e dall'amico Porfo90, ciao a tutti. Raccomando tutti di iscrivervi al canale di Porfo, siete tanti, grazie che mi iscrivete ogni giorno, oggi mi sono andati 4-5 commenti, vedete anche il suo canale, vi renderete conto che avete davanti un ragazzo intelligente, un ragazzo in gamba, colto, istruito, ma anche un ragazzo ironico, lui fa dei gameplay, spesso e volentieri, ci delizia con dei videogiochi che va a sfruttare e vi farete anche una cultura, perché se non la vedete, vi videogiochi. Certo, tratto ovviamente anche altre tematiche di politica, di attualità, do la mia opinione su diversi argomenti, cerco di spaziare un po' su varie tematiche, proprio per non annoiare mai con i stessi contenuti i miei utenti. Da Leandro Smelli, un saluto e da Porfo90. Ciao a tutti.